Siamo con Agostino Pantano, giornalista. Lei è stato querellato dal sindaco di Polistina per la questione delle pecore. Oggi il caso viene archiviato? Sì, la procura ha chiesto l'archiviazione di una querela che appariva già all'epoca temeraria. I politici devono imparare a smentire attraverso le vie ufficiali, formali, quelle notizie che ritengono sbagliate. Altrimenti si finisce sempre in tribunale come in questo caso. Per fortuna questa vigenda va verso la conclusione nella parte relativa alla querela del sindaco Tripodi, ma per quella inchiesta del novembre scorso io ho subito un'altra querela di una consigliera comunale che si è sentita diffamata da quelle notizie e quindi un accanimento contro l'inchiesta giornalistica, un'inchiesta documentata, un'inchiesta fondata su prove che io ho portato in difesa del mio lavoro e che fortunatamente quel lavoro giornalistico è riuscito a risolvere all'epoca il problema. Il passaggio delle pecore tollerato per anni in barba al regolamento comunale, per fortuna oggi non avviene più. Il segno è evidente che le notizie poi alla fine riescono a andare incontro a quelli che sono gli interessi dei cittadini. E più volte viene equilalato da persone. Come si sente da giornalista che poi lei racconta le cose, la verità? No, il problema non è il mio caso singolo, voglio dire, si affrontano queste cose. Il problema è un sistema che ormai io definisco di intimidazione contro le libertà di stampa perché anche il mondo dei social, Facebook, Twitter amplifica un'accusa che il potente di turno rivolge ai giornalisti nel caso di notizie scomode. Ecco, dovremmo avere in Italia delle leggi diverse che magari obbligano chi è presente delle querele temerali e quindi ti porta in tribunale su degli atti che sono infondati che li obblighi a pagare delle spese, ad esempio, delle spese processuali perché non è possibile che appunto contestare un'inchiesta giornalistica non attraverso le vie formali previste dalla legge ma attraverso la causa perché poi il senso qual è? Si vuole dire a tutti i giornalisti, non solo a chi ha scritto non solo a chi ha fatto quell'inchiesta, si vuole dire che su quell'argomento non bisogna intervenire non bisogna ritornare e quindi ha un valore intimidatorio di minaccia per tutti.